Allora, per molte persone che mi hanno chiesto come si alleva la vite ad alberello, io ho detto non so perché non ho alberelli, in realtà mi sono ricordato che qua a Subo è un alberello, ce l'abbiamo, che è questo, praticamente questo, anzi due veramente, abbiamo due vicini, uno e un altro, questo qua lo potrei levare a spalliera, però faccio l'esperimento e li avevo ad alberello così per vedere cosa succede, questo qua praticamente è una vite che era stata tranciata durante le lavorazioni, era stata mezzo sommersa dalla sabbia quando abbiamo, nelle varie fasi di fresatura e quant'altro, ed è ricomparsa, quindi in realtà questa qua adesso non è più allevabile con la forma spalliera, diciamo classica, ma la possiamo allevare ad alberello, quindi vedete ha una e due bracci principali e su questo io faccio sviluppare tre germogli in tutto, quindi naturalmente avrà una produzione molto limitata, ma mi aspetto, in virtù di questa produzione molto limitata, una grande qualità dell'uva, naturalmente è solo uno, quindi nel computo totale della vigna non ha, diciamo non è influente, però è un caso di studio interessante. Siccome appunto siamo al primo maggio e nel video della potatura verde ho già fatto vedere cosa succede, adesso faccio anche questo piccolo tutorial per mandare avanti le fasi dell'alberello, qua è già naturalmente come se fosse un alberello già impostato, infatti io ho lasciato, vedete, ho lasciato un moncherino l'anno scorso qui, cioè l'anno scorso, quest'anno scusate, a marzo qui, un altro moncherino qua e un altro moncherino qui, ok? Quindi questi qua adesso si svilupperanno, uno così, un altro così, lo porterò qua sopra e questo si svilupperà qui in alto. Cercherò di svilupparlo sul piano del filo di banchina in modo da poterlo legare. Stavo pensando anche di fare, di legare un filo da qua a questa pianta, più basso, in modo che i tralci possano agganciarsi, adesso lo vedo. Comunque dai, intanto facciamo la potatura verde, questo, vedete, questo è il braccio, è uno dei tralci, delle tralci dell'alberello, elimino quello che viene dal legno vecchio e lascio soltanto ciò che c'è, due gemme nel moncherino lasciato. Questo dalla parte, questo dall'altra, ecco qua, vedete, qua c'è un germoglio, forse si vede meglio da questa. Un po', forse questo si vede meglio. Comunque, un braccio qua lasciato, in realtà questo si, perché viene dal due legno vecchio, quindi questo è un moncherino con una più due gemme. Questo è un altro moncherino che però ha diversi dopi germogli, e infatti questo lo vediamo da qui, ecco qua, vediamo un po', c'è una foglia, ecco questo è un doppio germoglio, quindi questo lo elimino, e questo è invece l'altro doppio germoglio, il resto viene eliminato. Vedete se c'è qualcos'altro? No, quindi vediamo un po', come se si vede bene, sì, si vede bene. Quindi, un braccio, due bracci che verranno sviluppati lungo questa direzione, per non affastellarsi a questo, e il terzo braccio. E con questo dai, alleviamo l'alberello a Suboe, ok? Grazie a tutti.